ciao a tutte le video amatrici e video amatori di senza fissa dimora e benvenuti in questo nuovo video servitevi un tè un caffè allacciate bene le vostre cinture di sicurezza alla vostra poltrona preferita perché oggi parliamo di emmanuel macron delle magicien il mago quello che fa scomparire gli orologi riapparire gli orologi ma soprattutto è riuscito a fare quello che solo il david copperfield dei bei tempi andati era riuscito a fare far scomparire se stesso allo stadio di francia l'età de france macron non c'è più c'è non c'è non c'è non ci va ebbene sì guardate un po queste immagini durante un'intervista famosissima ormai famigerata di qualche giorno fa che ha fatto scatenare tutta la francia 800 mila persone sono scese in piazza dopo che lui ha parlato perché invece di calmare le acque come ho già detto in questo video ha buttato benzina sul fuoco ma addirittura qualcuno si è accorto che ha fatto scomparire il suo orologio l'orologio c'è chi dice che valga 2.500 euro chi 11.000 chi 80.000 chi offre di più non ha importanza l'importante è la manovra che ha fatto come potete vedere qui per nascondere il fatto che lui si togliesse l'orologio molti debunker l'hanno difeso tra cui anche qualcun italiano ha ripreso qualche questa notizia ha difeso dicendo che l'orologio strisciava nel tavolo e faceva dei rumori fastidiosi per il microfono eccetera 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 tutte le scuse sono buone a me va bene qualsiasi versione ma il motivo che lui abbia fatto tutto questo di nascosto è sconosciuto se fosse stato per una questione tecnica poteva benissimo farsi vedere mentre si toglieva l'orologio e lo appoggiava di fianco ma invece ha fatto tutto di nascosto mentre parlava come possiamo vedere in questo video in una maniera veramente subdola vergognosa proprio da mago da quattro soldi da mago di borgata da prestigi midirizzazione come direbbe qualcuno di qualche tempo fa fori condanné le di né le faczioni le facciano della Repubblica diamo a Manu quel che è di Manu e qui lui bam sbatte l'orologio sul tavolo e in quel momento se lo cava è plausibile che se lo sia cavato per motivi tecnici al di là del fatto che sta parlando con un pubblico diciamo interessato alla riforma delle pensioni e probabilmente il suo orologio indipendentemente da quello che costa costa sicuramente molto di più qualche volta la paga mensile di moltissimi di quelli che stanno dall'altra parte dello schermo e questo già da solo basterebbe per cavarselo l'orologio ma vediamo qualche tipologia di gestualità ed eccolo qua Manu col suo bel orologio fermo immagine orologio nella mano sinistra mano sinistra che va sotto al tavolo e si unisce all'altra mano lui molto incerto sbatte le ciglia più volte vedete che abbassa lo sguardo e finalmente allunga la mano destra sul tavolo perché si è cavato l'orologio e lo deposita infatti nella mano sinistra non c'è più niente gioco di magia è fatto voilà ma i suoi giochi di magia non sono stati limitati solamente durante la trasmissione televisiva ma bensì il giorno dopo the day after anzi in verità due giorni dopo c'è la partita Francia Paesi Bassi e Macron è un grandissimo tifoso della Francia tant'è vero che l'ultima volta ce lo ricordiamo tutti quando scese in campo per consolare Mbappé fece questa pietosa figura dell'uomo che va a consolare i suoi ragazzi proprio mentre nessuno veramente gli fregava minimamente nulla di lui ma lo stad de France lo attende lo aspetta a braccia aperta infatti già dal pomeriggio ci sono tantissime informazioni via twitter via social media che migliaia di persone lo aspettano per ingiuriarlo di cori di dimissioni e infatti al minuto 49 3 proprio come l'articolo che hanno usato per ben 11 volte che il corrispettivo del voto di fiducia in Francia si chiama 49 3 a 49 minuti e 3 secondi lo stadio scoppia urlando e lui chiaramente non c'è non c'è andato perché la paura fa 90 non c'è una cosa che teme di più il club di Davos non c'è cosa che tema di più che la rivolta popolare vi invito come sempre a mettere un pollicione in su se ti è piaciuto questo video a iscriverti al canale se ne vuoi vedere altri a condividerlo sui tuoi social e ci vediamo presto